Allora, al merindo, vedo che stai preparando delle bruschette, le bruschette di due tipi diversi. Mi spiegheresti un pochettino quale è l'idea? Allora, la prima bruschetta, quella terminata, sono solo salumi misti di passata in padella senza olio, quindi con il proprio grasso, con provola, semi tostati e stracchino. Perfetto. Quest'altra invece... Ecco, la particolarità invece di quest'altra bruschetta... La particolarità è che salsiccia cotta lo stesso senza olio, in padella, quindi col proprio grasso, con il radicchio treveggiano, su una base che è la stessa fatta in precedenza per l'altro con panna, pepe e poco latte per sembrerla in modo migliore. E mi dicevi, questa salsiccia, infatti sono rimasto un po' stupito quando l'hai descritta, era senza... Senza pelle. E quindi me la spieghi? Una salsiccia toscana, fatta con un suino toscano, che ha la bellezza e l'utilità di utilizzarla senza pelle. Perfetto. Quindi nel momento in cui viene fatta, hai il budello però poi viene levato? Si, viene tolto il budello. Perfetto. E una cosa, una curiosità, queste andranno in forno ora? Si, ma noi forno giusto dopo per far sciogliere la provola che viene messa sopra. Per quanto tempo? Ma una decina di minuti nemmeno, giusto il tempo che si scioglie la provola e si grassò di lì l'uovo che viene messo sopra. E quindi invece questo qua è proprio uovo? Uovo e parmigiano. Ok, ok. Vedremo il risultato finale, grazie. 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 Grazie.